E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e oggi non andiamo a fare analisi tecnica ma andiamo a fare un altro video approfondimento di formazione su quello che è uno dei principali, sono il principale exchange italiano per quanto riguarda appunto la compravendita di criptovalute sapete che a me piace approfondire tutti i servizi che reputo molto validi e che utilizzo in prima persona e quindi oggi ho deciso di portarvi Young Platform che magari già conoscete ma per chi non lo conosce è veramente un ottimo servizio e quindi lo voglio approfondire con voi nel video di oggi ricordatevi come prima cosa come sempre di lasciare un bel mi piace, mi supportate tanto iscrivetevi anche al canale con il clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati partiamo subito perché la piattaforma Young Platform si divide fondamentalmente in tre parti Young Platform, Young Platform Pro e StepDrop che è un'altra applicazione che andremo a vedere che ci dà la possibilità di guadagnare cripto in maniera gratuita solamente facendo i nostri passi proprio col telefono, un'applicazione e andare anche a guadagnare cripto attraverso alcuni giochini quindi della gamification per andare appunto a guadagnare i token della piattaforma molto molto interessante ma prima passiamo direttamente ad approfondire quello che è Young Platform e quali sono i principali appunto punti focali, dopodiché andremo anche a capire il perché Young Platform si impone come un'ottima soluzione per i residenti in Italia però lo vediamo subito entrando nell'exchange avete subito la possibilità di avere una piattaforma molto semplice quindi già qua Young Platform base dà la possibilità a chi appunto è neofita dell'ambiente o non ha dimestichezza con gli exchange più complessi di andare a lavorare nella primo acquisto di criptovalute tutte le cripto che trovate qua si possono fare deposit e withdraw quindi molto importante perché voi potete poi essere anche proprietari delle vostre chiavi potete fare i withdraw, non c'è alcun vincolo sappiamo che su alcuni servizi non è possibile fare questo nonostante ciò Young Platform si pone un po' come un coinbase italiano perché? Perché dà la possibilità appunto di acquistare in maniera molto diretta infatti qua trovate quelle che sono le cripto preferite e molto semplicemente basta premere sulla cripto, in questo caso ad esempio bitcoin e ci farà vedere le informazioni di base ci spiegherà che cosa è bitcoin, quando è nata, quello che è la market cap, il volume i livelli di confidence, ci dice anche appunto attraverso la loro intelligenza artificiale insomma quello che è la confidence, la media di mercato ci dà anche le altre coin e soprattutto veramente tante coin questo exchange tante alt che per un exchange italiano è veramente tanta roba non tutti gli exchange, soprattutto gli italiani che sono veramente pochi hanno tante alt a disposizione quindi anche quello è un vantaggio per gli acquisti basterà solamente premere acquista a questo punto gli date l'importo in valore facciamo ad esempio 100 euro che volete appunto convertire in bitcoin se volete vendere ovviamente fate la parte speculare vendi fate l'epilogo acquisto e qua vi ridà tutte le informazioni vedete che la commissione del 2,5% è una commissione abbastanza alta perché? Perché in questo caso non stiamo accedendo alla piattaforma pro ma stiamo operando solamente sulla piattaforma basica quindi significa che c'è un aiuto da parte della piattaforma importante e quindi è un po' come Coinbase le commissioni sono più alte però si può andare ad abbassare le commissioni come detenendo il token ING YANG ok? con questo token voi andate a fare i sconti commissionali sulla base appunto di quello che è il numero di token YANG che mantenete nel vostro wallet ma poi andremo a vedere anche quello fate acquista e andate a convertire immediatamente i vostri euro in bitcoin quindi veramente molto molto semplice e molto intuitivo appunto per quanto riguarda le fee della piattaforma legata appunto a YANG platform base trovate appunto fee del 2,50 per l'acquisto fiat to crypto ok? quindi euro in crypto crypto to crypto 1,35 quindi già quasi la metà ecco un po' di più fiat per acquisto della loro crypto YANG invece è totalmente a zero vedete anche che qui vi da le commissioni di deposito che è lo 0% su praticamente tutte le crypto avete un numero di conferme richieste per vedere accreditato il vostro la vostra crypto così come tutti i vari exchange per i prelievi invece avete anche qui commissioni di prelievo che in realtà secondo me sono molto competitive perché guardate USDC al 5 USD e RC20 quindi solitamente ad esempio qua su altri exchange avete di solito 10-15 dollari ok? di commissione qua invece sono molto basse uguale anche per USDT quindi molto interessante anche lato commissionale per quanto riguarda invece un altro aspetto importante che a me piace molto di YANG sapete che io punto tanto sulla formazione sulla capacità di capire questo settore ecco che YANG ha anche un'academy rivolta a tutti appunto i facenti parti iscritti alla loro piattaforma con questa academy avete la possibilità appunto di imparare le basi perché è proprio pensato per chi lo vuole capire meglio quindi vi spiega cos'è il mining cos'è il bitcoin cos'è un halving cos'è una blockchain è veramente fatto bene tutta questa parte di academy me la sono guardata anch'io sono lezioni molto brevi vedete 7-6 minuti 5 minuti quindi non sono pesanti ma anzi sono molto semplici molto intuitive cosa che non vi ho detto molto importante qui sotto in descrizione trovate il link mio di affiliazione con il quale se vi iscrivete alla piattaforma avete un welcome bonus di 10 euro accreditati sulla vostra piattaforma una volta verificata l'identità perché ovviamente si tratta di un exchange italiano e con un deposito minimo di 50 euro in fiat currency quindi voi depositate 50 euro ne avete 10 di welcome bonus che potete ritirare senza problemi e in più vi dà la possibilità che se andate a invitare voi stessi altri tre amici potete andare a guadagnare 15 euro in più di bonus quindi per un totale complessivo di 25 euro che diciamo non fa mai male ok? quindi tutti free money e free crypto che poi vengono ad aiutarvi la piattaforma è completamente italiano è un'azienda di Torino molto affidabile molto versatile molto giovane quindi io ve la consiglio molto interessante la parte di Young basica se volete essere un pochino più pro siete un po' più pro e volete avventurarvi ok? in quello che è Young Platform Pro probabilmente avete una interfaccia un pochino più complessa ma allo stesso tempo vi dà la possibilità di operare in maniera più pro perché avete la possibilità di avere l'exchange intanto con tantissime coppie con euro molto interessante guardate i mercati euro sono veramente tanti anche su altcoin piccoline trovate tipo StoreJ Curve Chillitz per farvene alcune che magari send tutte coin che comunque potete scambiare direttamente in euro è molto interessante e soprattutto vi dà la possibilità anche di inserire ordini pro quindi ordini a limite a mercato con lo stop quindi potete utilizzarlo anche in quest'ottica qua molto interessante il fatto che operate solo spot qui quindi non avete il mercato futures quindi se cercate il futures questa piattaforma non va bene qui operate spot quindi non c'è l'applicazione di leve finanziare in questo mercato però è molto utile perché qua le fee sono molto più basse e infatti le andiamo a vedere e le commissioni da taker e da maker quindi domanda offerta vendita e acquisto sono dello 0,2 sia crypto to crypto che crypto to fiat molto molto buono ok la situazione perché andiamo ad abbassarle in maniera veramente considerevole e sono veramente competitive sono tanto quanto i principali exchange internazionali quindi molto molto bene anche qui Young Patron Fro è pensata principalmente per quello che riguarda la parte la parte italiana e la parte di un pubblico che vuole operare in Italia e su questo appunto faremo poi sul finale di questo video un breve escursus con i principali key difference ok di questo prodotto voglio farvi vedere un attimino quella che è l'applicazione perché c'è anche l'applicazione l'applicazione è molto semplice lo vedete la scorro con voi col telefono praticamente qui avete tutti gli asset a disposizione con i vostri saldi potete ovviamente operare con bonifico bancario senza commissioni avete anche la possibilità di versare addirittura a contanti attraverso alcuni bar convenzionati avete tabaccherie Carrefour Pam Penny Market Panorama ci sono davvero tanti provider che vi consentono addirittura di deposare in contanti ovviamente con dei limiti strutturali che vi consiglio poi di approfondire sul sito però molto interessante anche quello vi faccio vedere un po' come funziona qui avete la possibilità appunto di avere i vostri preferiti avete le stesse interfacce che vedete da web però appunto andate anche a poter selezionare quello che è la compravendita di bitcoin anche da app acquista converti euro con bitcoin ovviamente poi dovete depositare euro sul conto e potete fare tutto direttamente anche dall'applicazione potete monitorare tutto tutti gli andamenti è un po' anche un coin market cap vi può essere utile anche per questo per vedere le capitalizzazioni quindi è un'app veramente ben fatta e con un'interfaccia molto molto pulita quindi questo per quanto riguarda la piattaforma di anche mobile per quanto riguarda invece l'altra applicazione che vi consiglio sempre loro è step drop cos'è step drop vi dà la possibilità vedete facendo dei passi di fare un claim del loro token e non è assolutamente male la cosa perché il token comunque ha un valore e quindi è come a guadagnare crypto gratis che poi potete decidere di cosa farne venderli utilizzarli per la piattaforma per abbessare le commissioni potete scegliere un po' voi quello che è la vostra la vostra appunto scelta ecco a riguardo vedete che si possono addirittura fare le previsioni up and down di una moneta potete scommettere questi token e ovviamente se andate ad avere una un esito positivo guadagnate appunto le vostre reward che trovate qui scusate trovate qui appunto vedi vinci tre previsioni ci verranno accreditati 010 young 5000 passi saranno 0,05 young e così via quindi molto molto gamification come vi dicevo prima quindi legata un po' a un'esperienza utente semplice ma allo stesso tempo vi dà la possibilità di guadagnare questi token quindi è molto molto interessante anche qui trovate la parte di education con appunto i vari quiz che vi daranno anche qui a disposizione dei young quindi fatta veramente bene esiste anche la classifica appunto per i migliori non voglio soffermarmi altro su quest'app perché è molto utile vi invito veramente a scaricarla dall'app store disponibile sia per android che ios così come young platform l'app quindi disponibile su tutte le piattaforme ma voglio farvi un recap molto importante di quello che è poi effettivamente gli key difference ok perché utilizzare young platform allora sicuramente è una soluzione italiana molto valida le commissioni abbiamo viste sono alla pari se usate il pro di praticamente tutti gli exchange avete la possibilità di affidarvi a una banca a un servizio bancario ecco mettiamola così italiano ciò significa che i vostri soldi quando li versate non escono dai confini nazionali quindi voi non andate a fare dei bonifici all'estero e questo sapete che magari nell'ottica di una dichiarazione redditi è più comodo ok detenere in Italia perché vi esula da quello che è il monitoraggio fiscale avete comunque l'affidabilità che state operando con un'azienda italiana normata e che quindi in termini di antiriciclaggio lotta al terrorismo normative è adeguata quindi non avete alcun problema da quel lato lì l'unico exchange vi direi in Italia ad accettare quelle che sono anche contanti abbiamo visto prima tutti i punti dove potete entrare e utilizzare i vostri contanti per ricaricare il vostro conto avete appunto anche la possibilità di andare ad acquistare tantissime alcoin che per un exchange italiano è cosa rara ve lo assicuro avete la sede legal abbiamo detto in Italia non c'è nessuna paradiso fiscale o cose particolari avete il supporto soprattutto in lingua italiana e che sappiamo che appunto anche soprattutto per un neofita è una cosa molto molto importante il potersi interfacciare anche con un operatore appunto che parla la vostra lingua e può aiutarvi e un canale telegram ma anche hanno con più di 6.000 persone con supporto H24 7 giorni su 7 quindi veramente vi seguono alla grande in più quello che a me piace tanto ve l'ho già detto è il focus nella formazione delle persone quindi non è un exchange che mira solamente a darvi il servizio ma anche a spiegarvi come funzionano le cripto e in Italia ce n'è veramente tanto tanto bisogno e in più ve lo lascio qui sotto in descrizione hanno anche redatto in maniera totalmente gratuita un free ebook per quanto riguarda le dichiarazioni di redditi che sappiamo benissimo essere super controverso come argomento quindi vi danno anche il supporto tra virgolette documentale per poter svolgere la vostra dichiarazione senza particolari problemi quindi cosa dirvi come riassumervi ve lo consiglio secondo me è un ottimo exchange per chi vuole operare spot non vuole spostarsi fuori dall'Italia non vuole avere particolari problemi questa è una soluzione più che valida che vi dà la possibilità di operare in completa tranquillità trasparenza con un'azienda che comunque lavora molto bene e che si sta affermando sul panorama italiano con continuamente di capitale e fatevelo anche voi qualche ricerca autonoma su questa young platform perché vedrete la solidità e quello che è la loro mentalità che è veramente avanti in questo settore io ragazzi mi fermo qui non voglio darvi altro trovate qui sotto in descrizione tutto quello che ci siamo detti i vari link per poter approfondire in maniera autonoma questa piattaforma trovate anche il link per iscrivervi con tutti i bonus io ragazzi vi auguro ancora una volta una buona serata fatemi sapere anche voi cosa ne pensate young platform se l'avete utilizzata qual è il vostro feedback il mio feedback è positivo e basta così io ragazzi vi saluto vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo presto con un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti